Allora, video importante, video importante per il caffèrino, io bevo la sambuchina stock, tutto stock io bevo, lo stock, stock 84, stock 87, stock 88, allora un po' di sambuchina, eh, ne hai messi un po' trovassi, però il segreto non giratelo, ok? Non giratelo, deve rimanere l'oncia di sambuca in mezzo che si espande sotto, se girate dopo, non lo girate, va, bello, cioè si sente subito il caffè e poi la sambuca, se lo giri è tutta sambuca, e si deve fare la macchettina bianca, se tu invece giri diventa tutto, no, no, sono cose, Discorso serio, Lautaro, allora, Lautaro, partiamo dal presupposto che noi siamo interessi, siamo obiettivi, seri, belli, figosi, noi ciuliamo tanto, gli altri no, parliamo di questo, Lautaro, il campionato italiano ormai lo conosci, ok? Se vuoi prendere 12 milioni, 13 milioni, vai in Inghilterra, il campionato italiano, tu, tu pensa che ha preso Allegri 9 milioni, allenatore, quindi è già una follia, hai capito? I gobbi siccome che non capiscono niente comunque, quindi noi un attaccante più di 6 milioni, 7 non possiamo darli, ma non perché non abbiamo soldi, è per il giro economico che gira per il nostro campionato, hai capito? Quindi siccome che noi siamo belli, intelligenti, abbiamo il triplete, siamo, ciuliamo tanto, ecco, siccome che noi siamo l'Inter, siamo gente, cioè, hai capito? Hai capito tu, no? Quindi, poi pure, guarda, guarda, a malincuore, dal nonno hai il benestare ad andartene, bandiere non esistono, l'ultima bandiera chi è stata? A via Zanetti, basta, quindi, 12 milioni, non ci provare proprio, diglielo al tuo procuratore di non provarci proprio, tanto, mi sa che arriva anche Gudmundson, mi sa che arriva anche Gudmundson, l'AUT, parliamoci chiaro, con 5-6 milioni all'anno un bel bomberino si trova, Poi, bocca cucita e fai tu, ok? Muchas gracias, hombre, viva Lautaro, viva l'Inter e viva noi, i più belli del campionato, eh? Rosiconi!